Metri, lavatesta con alzagambe elettrico, movimenti motore poggiapiedi pieghevole con pulsanti di controllo integrati nel poggiatesta, specifiche, struttura interna metallica, lavandino basculante ed ergonomico, valvola di scarico inox 304 con cestello anticapelli e tappo, supporto per lavandino in acciaio inossidabile, miscelatore di alta qualità, con tubo inox, e doccia tromata, sedile e schienale con nolle interne per un maggiore comfort. Imbottitura extra nella zona lombare, caratteristiche tecniche, lunghezza, 124,5 cm, lunghezza con poggiapiedi in estensione, 149 cm, larghezza, 68 cm, altezza, 106 cm, altezza seduta 48 cm, peso 79,1 kg, tensione, 240 volt, motori, 1, tappezzeria, PVC, lavandino, ceramica bianca o nera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS